Cornaglia è un'automotività, siamo presenti nel mercato da 1916, quindi siamo un'ottomotività molto tradizionale e in qualche modo conservativa. Siamo un'ottomotività medio italiana, molto tipica. Produziamo parti per i clienti principali, gruppo FCA e traktors. Ma non voglio concentrare molto sulla nostra storia. Ciò che vorrei parlare con voi è la esperienza che abbiamo avuto in Elite. Come ho detto prima, essere un'ottomotività tradizionale e un'ottomotività significa che vuoi cambiare qualcosa, in quanto riguarda i vostri aspetti. Anche da un punto di vista fondamentale è sempre stato molto tradizionale. Abbiamo sempre pensato che la relazione con i banki era la principale di finanziamento e prendere i luoghi erano le strumenti più extreme, che avevamo sempre portato come company. Quando siamo iniziati in Elite, abbiamo iniziato un'ottomotività, un programma di training e abbiamo pensato che erano capabili di fare qualcosa di diverso. Quindi quando ci propostavano, al final del 2016, di un'ottomotività, abbiamo iniziato un pochino un pochino, perché non avevamo mai avuto un'ottomotività. e non avevo mai avuto un'ottomotività, perché il prodotto era un'ottomotività che aveva alcune caratteristiche, che era difficile da raccontare a mio board di direttori, perché c'è un'ottomotività che si chiamava un'ottomotività, in cui c'è un'ottomotività internazionale tra i partneri. Quindi, se qualcuno si fanno male durante i prossimi 10 anni, tutti gli altri saranno responsabili per ottenere le strumenti. Noi crediamo, e non siamo interessati a andare in pubblico, crediamo che la nostra finanzia è sufficiente per il nostro crescente. L'Elite era capabile di offrire qualcosa di diverso a le nostre, come le nostre. Le nostre crescente che vogliono crescere, che vogliono accettare al mercato, che vogliono accettare visibilità al mercato. E questo era il perfetto tool. Abbiamo raggiunto un'ottomotività e abbiamo raggiunto un'ottomotività, che era anche difficile da raccontare. Ma, dopo aver fatto parte in questa operazione, la tua visibilità aumenta molto.